Onorevole, c'è il sindaco che si è offesa delle sue affermazioni che ha fatto dentro. Che affermazione ha fatto? Salve, che affermazione ha fatto? Io anche poi sono sempre di destra, non sono mai stato di sinistra. Però penso che lei ha detto che mandiamo i sindaci al Senato, non credo che siano proprio sproveduti. Io penso che dovrebbe essere obbligatorio, che prima di andare al Senato o alla Camera, si dovrebbe essere prima di fare il sindaco anche in un comune di 2000 abitanti. Relax, non era un giudizio sulla qualità, era un giudizio sulla tempistica. Io sono consigliare comunale a Napoli e devo dire che svolgo un lavoro meno complesso rispetto al sindaco. Immaginare di poter fare quello, di poter fare anche poi il senatore, come lo sto facendo perché faccio anche la parlamentare, va bene, mi rassicura, però vanno eletti perché non vi occuperete soltanto di questioni locali, ma anche di trattati europei, quindi di normative riguardanti l'immigrazione, la difesa comune, la lotta al terrorismo, le banche. Ma se i migranti vengono da noi, pensano di trattamento. Sì, ho capito, ma è giusto però farlo con un'investitura democratica. Io dicevo questo, se lei si è sentito offeso non ha sentito... Ma adesso sono lui si è sentito direttamente. Sì, ma per fare i senatori. Per fare anche i senatori. Quando troverete il tempo per fare anche i senatori? Grazie. Quando ti sape fare il messio è il signore.